Questa mazza non funziona più ragazzi, è incredibile Però ragazzi c'è lui, Gino il drogato, tifoso del Chelsea Guardate che bello, guardate che occhi da drogato Siete eh? Do sta la mano tua, imbecile Speciale! Raga guardate che pacchi incredibili ho! Sono quelli del pass più quelli delle rivals E se riesco a finire la VL entro stasera ma non penso vi metterò le clip anche di quelli Poi domani uscirà anche l'Icon, quindi ci sarà un po' di roba Poi faremo anche il team of the week garantito, il pick Con una bella sorpresa Ma ho la macumba suprema, ho provato la mazza, ho provato mille cose Questa mazza non funziona più ragazzi È incredibile Però ragazzi c'è lui, Gino il drogato, tifoso del Chelsea Guardate che bello, guardate che occhi da drogato Se non sculiamo con lui non sculiamo più Quindi iniziamo dai pacchetti più schifosi Che cos'è questo? Pacchetto G, dove l'ho trovato sto pacchetto? Scusatemi Neanche mi ricordo Comunque non importa Dimmi se... Alaba? Alaba! Iniziamo con Alaba da un pacchetto così Ok, non vale niente Per un 85 del Real Iniziamo Bene Iniziamo Bene ragazzi Speriamo non sia l'unica carta decente Ma non penso ragazzi Ho delle carte e dei pacchetti incredibili Ah, non scambiabile Non è successo niente Sono errori del percorso Vediamo un po' che pacchetti Giocatori rari Giocatori rari Maxi Pacchetto giocatori rari Con l'83 Ma ragazzi Alcuni pacchetti Non so dove li abbia presi Che cos'è? Ok Questo è scambiabile Acerbi Da 50k Acerbi Ah no Va bene Ok, ok Bastone Almeno 85 Non vale niente Ma almeno 85 Beh, un pacchetto Un po' Un po' Un po' Un po' Un po' Un po' Dai Let's go 50k non scambiabile Con 83 più garantito Non guardo Questo guardate voi Non guardo raga Ti prego Fatemi sapere se è buono o no ragazzi Fatemi sapere se è buono o no Mi raccomando Io ci conto 83 più garantito Raga Dai 83 più garantito Già sento L'odore dee desculata 3 2 1 83 più garantito 83 Raga No, 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 ragazzi No, 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 no Io mi aspetto 285 E 386 Qua Allora il 100k Scambiabile Vi prego Le ho presi scambiabili I premi delle Rivals Oh ma io gli speciali Non posso trovarli Gakpo Ah Dal 100k 84 ho trovato Dal 100k Ho trovato l'84 Ragazzi Neanche un walkout Stiamo trovando Neanche un Cioè Cioè ma che è sto schifo Raga Cioè ma Non è normale Non è normale Che abbia questa Allora Allora Questo è il riscaldamento Il riscaldamento Kama Kumba Questo lo apri con i mani Stai vedere? Stai vedere? Dove sta la mano Ambecile 285 Questo ciò Guardiamo insieme Ragazzi ma è incredibile 285 Speciale Ah no Doppio walkout Kubo Bello Vedete Amacumba Amacumba Non vale niente Cioè vale ai 60 70k Però La macumba Kubo Mamma mia Che fai È fortissimo Raga È fortissimo Lui è fortissimo 40k Si è abbassato Però Però 87 85 Abbiamo trovato Quello speciale Abbiamo trovato Il primo speciale Della Della promo Può andare meglio Può andare meglio Quando ho visto Attaccante polacco Pensavo Le Wandowski Quindi chissà cosa C'è sotto Però ragazzi È il momento È il momento Un po' di Allora Io devo prepararmi Andarmene Allora Vi siete qua Lo vedete Se vede Si Aprite eh Senza mazza La mazza Non è buona La mazza Non è buona Back to back Non ci credo Però let's go Ne vado Morto No Ma come Un 88 Mi dà la magia Ti metto qua Allora Ragazzi Io non ho visto Sotto 80 Vabbè Erano 380 Ma come 386 1 88 Ah Doppio Ah Ho fatto 86 87 88 Doppio Walkout Era allora Che merda Zì Vabbè Questi sono Praticamente Walkout Che escono Sempre Sono i Walkout Garantiti Walkout Fodder Abbiamo trovato Quello speciale Non 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 Cioè È una Raga Parliamoci Chiaro È una Merda Cioè Raga È una Merda Mi ha dato uno speciale Ok Che potrei anche utilizzare Secondo me è forte Poteva andare molto meglio Per i pacchetti Capito Poteva andare Cento volte Meglio Speciale L'abbiamo trovato Ok Sto facendo il team of the week Garantito Ci sono sei oggetti Tre oro e tre argento Uno solo raro Va bene Comunque alla fine Dai Ok Il raro è l'argento È l'oro Volevo dire Vabbè È Otavio È Otavio No è Malcom Ma che è Otavio Otavio è portoghese Mammi drogo È Malcom Ma questo si può Anche evolvere Dai vabbè Famo finta Famo finta Che fa bene tutto Dai Uno di tre giocatori Team of the week Dal primo al quinto Ragazzi Vediamo Però Let's go L'asoro Ma come No no Così 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 Non guardo Tre Due E andiamo a sbirciare Tre due Uno Non guardo Mi metto la mano davanti E andiamo Stats per stats Vediamo un po' Mmm Ok Il tripling è buono in realtà Il passaggio è un po' Una merda Il tiro una merda Chi è? Oh buono Neresh Era estinto ragazzi Per Di Maria È fortissimo Cinque skill Playstyle illusionista Questo come super sap Vabbè Non mi posso lamentare Andiamo con il secondo Ok Il fisico è buono qua La difesa è un po' Me Il tripling è un po' Questo è un po' Ma che è? Linkovic Oh 87 Dai Dai Io prendo Neresh Per adesso L'ultimo Aleman Metti un po' Più per culo Ok Il fisico è un po' Me La difesa non c'è Il tripling Dipende Ma è una boost Ok Beh ragazzi Quasi va Di Neresh Non so quanto valga adesso C'è l'illusionista Sì Non plus Questo sulla fascia Per cacchio Che vuole Apriamoci questo pacco Che cos'è Ah 12 oro Un pacchetto oro De merda Un pacchetto oro De merda Ma chi è Vabbè Sarà manco oro Raro Raga Ma no Che cacchio Apriamoci il pacchetto Dello shop Così ci vediamo Anche l'icon Che troviamo Diamo gli eroi Basi prestito Vabbè Dai Ragazzi Attanto Chi li usa Non li uso Le icone Se me da il fenomeno Lo uso però Non me da il fenomeno Me da blank Due aggiornamenti oro Per finire in bellezza Dai Questo non è niente Ma Che è successo Oh Ma Che cacchio Oh ma che sta succedendo Ma tutto questo Per que Porca troia Ok il secondo C'è la mazza mano Niente 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 speciale Niente Grazie a tutti. Grazie a tutti.